Gentili telespettatori, buona giornata. Non poteva mancare Massimo Cacciari nei suoi commenti sulla disastrosa sconfitta del Partito Democratico alle ultime elezioni comunali. Siamo a otto e mezzo, sempre da questo programma di Lilly Gruber, dove ogni tanto passa anche il filosofo, l'intellettuale del PD. Poi dire che Cacciari sia ancora del PD forse è un po' troppo. Ma lui, ex sindaco di Venezia, ex aderente a questo partito, oggi credo proprio che Massimo Cacciari non si definisca uno del PD. Si definirà, credo, uno di sinistra ma senza un vero e proprio partito di riferimento. Però in questo caso Cacciari si schiera con Ellis Line. Dice, ha ragione, siamo in una crisi di tutte le socialdemocrazie europee. Non basta lei per rimontare. Qua bisogna riformare tutto, anche se la strada è difficilissima e queste elezioni erano scontatissime. Allora, caro Cacciari, ho capito che lei non può cambiare quello che succede in Europa, avanzano le destre. Però lei non ha neanche il minimo impegno, forse le minime capacità per andare nella direzione opposta. Perché è una che non ha né carisma, né idee, né poste, né controllo sul partito. È lo zero assoluto. Ho capito che in Europa avanzano le destre, c'è una crisi della sinistra, ma lei ne è una degnissima rappresentante. Diciamo, la regina degli esponenti di sinistra in disuso, in disfatta. Ecco, quindi non possiamo dire che è colpa sua per quello che succede in Europa, ma possiamo dire che per quello che succede in Italia, per la sinistra e per il PD è assolutamente colpa sua. Noi pensavamo che Letta era il peggio e prima pensavamo che Zingaretti era il peggio. Con la Schlein abbiamo visto che Letta in confronto è un Einstein della politica. Eh sì, no. In confronto Letta era veramente uno scienziato della politica. Ecco. Poi andiamo avanti con quello che ci racconta Cacciari. Dice è una sconfitta netta l'ultima. Sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento delle destre è ancora forte. Ringraziamo tutti i nostri candidati. Sapevamo sarebbe stata difficile, non si cambia in due mesi e non passa mai da singole persone, per cui ci vorrà più tempo per ricostruire un centro-sinistra nuovo e vincente. Andata male nei capoluoghi, meglio nei comuni medi, il PD primo partito di lista non è consolazione perché da soli non si vince, serve costruire un campo credibile perché la destra quando si tratta di andare al voto si presenta unita. Allora, a sinistra perdono mai solo due mesi che questa governa il PD. A destra non mantengono le promesse elettorali ma sono solo otto mesi che governano. Quindi c'è sempre la giustificazione pronta. La Schlein è solo due mesi e le promesse ma è solo otto mesi. Quindi il governo è giustificato per non realizzare le promesse. L'opposizione è giustificata perché sta perdendo, quindi non ci sono colpevoli, non ci sono vinti. È sempre colpa o di quello di prima? E se non è colpa di quello di prima, dice dammi il tempo, sono appena arrivato. No, sono appena arrivato, cosa vuoi da me? È colpa di quello di prima e poi sono appena arrivato. Quindi non mi state addosso, come dice la Schlein, non mi state addosso, state sereni, stiamo appena cominciando. Quindi anche con una certa arroganza. Bene. Poi c'era anche Alessandro Sallusti assieme a Cacciari. Dice, ma come Repubblica il 16 maggio titolava La destra si è fermata? Ma d'altronde è la narrazione della sinistra. Ma è certo, la sinistra racconta che il vento della destra si è fermata e la destra racconta che la scure del governo sull'immigrazione, come nel titolo di oggi. Dice, eh? Quale scure? Quale cosa? che entrano 3.000 clandestini al giorno? Cavolo state dicendo? Quindi, giornali di destra e giornali di sinistra tirano acqua al proprio mulino con una onestà intellettuale pari a zero. Pari a zero. Da tutte e due le parti raccontano le storie di Babbo Natale. O raccontano solo le storie che conviene raccontare per tirare acqua al proprio mulino. E poi Sallusti dice, dovrebbe cambiare narrazione. Ogni volta ripetono la parola destra con accezione negativa. Se pensano di usare Fazio, Litizzetto, Annunziata, Auguri, a quel punto Lilly Gruber dice, la destra va benissimo, ma non ha niente a che fare con i fascismi. Dice Cacciari alla fine. Ecco. Quindi, come dire, chiamate la destra, ma non chiamateli fascisti. Ok. Ha ragione anche che la parola destra viene utilizzata con eccezione negativa. Anzi, lo dicono al plurale. le destre, no? Come uno si immagina uno schieramento di destra, tutti inquadrati, tutti in fila. Le destre. Le destre. Questa è la storiella. Poi all'estero dicono l'estrema destra. Per l'estero il governo di oggi è estrema destra. Proprio una roba di un estremo che fa venire i brividi. In realtà, di estremo non c'è proprio nulla. Basta guardare questi otto mesi e capite che tutto sto estremo, che cos'è? Il busto che c'ha la russa a casa? È tutta lì l'estrema destra? È tutta lì? Qualche saluto romano, qualche maglietta di qualche gruppo rock di quel tipo là? È questa l'estrema destra? Su via, dai. Quelle sono estreme fesserie di gente che è rimasta con la testa quando aveva 15 anni. Però andiamo avanti e cerchiamo di fare dei discorsi più intelligenti. Ma è dura. Le dura, dicono da qualche parte in Italia. Le dura, le dura. Vabbè. Comunque, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che questi video sono poi condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, dove lì, se poi volete condividere questi video, lo potete fare assolutamente, senza nessun problema. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie.